Buongiorno, dunque, intanto due parole di presentazione e visto che la slide, l'immagine ferma su questo titolo, vi spiego anche un po' il senso di quello che ho intenzione di dire, che probabilmente è un po' al di fuori di quello che vi immaginate di sentire. Intanto, io sono un bergamasco, una volta tanto mi capita di parlare nel mio territorio, però sono anche responsabile nazionale di un'associazione che esiste dall'89, quindi da oltre vent'anni, e che da vent'anni promuove il tema di cui io parlo, cioè quello della biedilizia. Da più di vent'anni io mi occupo esclusivamente di questo, cioè la mia attività professionale, naturalmente sono un architetto, era giusto sottolinearlo, e faccio il libero professionista, oltre che fare altre cose di carattere informativo, divulgativo, didattico, sempre in questo campo. In vent'anni le cose sono molto cambiate, nell'89 quando noi abbiamo fondato questa associazione, intanto qualcuno di voi era appena nato forse, e poi indubbiamente l'atteggiamento del mercato in fronte a questi temi era molto scettico, ci ascoltavano e venivamo ascoltati con molta attenzione, ma anche con una buona dose di distanza e di stacco. Diciamo che oggi le cose sono molto cambiate, non c'è convegno, seminario, fiera o altro dedicato all'edilizia in cui non si parli di architettura sostenibile, edilizia sostenibile, bioedilizia, risparmio energetico, i temi che insomma ci sono stati a cuore e che ci stanno ancora a cuore tuttora. Diciamo che però se ne parla in un modo un po' diverso da quello che noi ci saremmo aspettati vent'anni fa. Quindi io voglio puntualizzare una serie di pensieri che dovrebbero aiutarvi, aiutarci a capire cosa si intende per bioedilizia e naturalmente poi riflettere e pensare come queste considerazioni e pensieri si possono tradurre nell'esperienza quotidiana in questo settore molto importante, veramente molto importante soprattutto oggi per l'economia italiana, soprattutto oggi perché l'edilizia come sapete ha perso qualcosa come 250.000 posti di lavoro negli ultimi anni e quindi le riflessioni sul futuro dell'edilizia in Italia sono molto aperte. Allora il titolo, vabbè, la cura della natura è come dire un richiamo a quello che molti dicono, pensano e non fanno, cioè alla necessità di ritrovare un equilibrio con la natura, che continua ad essere l'unica fonte della nostra sopravvivenza e che di conseguenza andrebbe curata. Non è così, come tutti sappiamo, lo diciamo ma non lo facciamo e di conseguenza anche su questo è opportuno e necessario riflettere. Fare, conoscere e cambiare riguarda la mia esperienza, è un po' girata al contrario, nel senso che quando mi è capitato molto spesso di parlare di questi temi è poi di essere un po' accusato di fare il grillo parlante, di un approccio troppo ideologico ai temi. Quindi io negli ultimi periodi ho ribaltato le mie comunicazioni e per dire che non faccio il grillo parlante comincio dal fare, cioè comincio da quello che faccio io, un libro professionista che lavora nel proprio territorio e non solo, come dire, lavorando sulla progettazione naturalmente perché questo è il mio mestiere, però su cose molto concrete e molto visibili, verificabili, non su idee o proposte astratte. dal fare, cioè dalla necessità di fare, che è essenziale per fare poi pensiero, cioè dal fare si può riflettere se il fare che si fa è giusto, può essere modificato, può essere migliorato, può essere... se non si fa è difficile invece riuscire a trovare soluzioni migliorative del fare. Quindi io critico molto, occupandomi anche di formazione didattica, faccio il professore a contratto alla Facoltà di Architettura e al Politecnico di Milano, insegno progettazione ambientale da parecchi anni, occupandomi anche di questo, anche all'interno di questa associazione, diffido sempre molto rispetto a quelli che parlano ma non fanno. Quindi parto dal fare. Conoscere, facendo si conosce, mentre si lavora, il nostro lavoro, presumo che di fronte a me, di avere principalmente architetti, ingegneri, geometri, magari imprenditori, anche normali cittadini, però presumo che la maggior parte di voi siano addetti ai lavori. Facendo, siamo costretti a imparare, ho sentito parlare di crediti formativi, siete qua anche, che mi auguro, e mi auguro che quello che vi dico io possa avere qualche utilità, siete qua anche per imparare. Noi dobbiamo continuare a imparare, non smettiamo mai. Smettere di imparare significa, come dire, mettere il cervello a riposo, e questo è preoccupante da tutti i punti di vista, per la nostra salute psicofisica. Quindi tenere il cervello sempre sveglio e imparare, quindi conoscere continuamente, è fondamentale. Quando si conosce inevitabilmente ci si rende conto di contraddizioni, problemi, e però mi auguro, almeno nel mio caso, nasce la necessità di cambiare le regole del gioco, e mi auguro che questo possa avvenire anche nella testa di qualcuno di voi. Sempre per, non voglio far premesse troppo lunghe, però siccome poi mi farò, come dire, condurre dalle immagini, volevo sgombrare il campo rispetto a un equivoco che percorre da parecchi anni incontri, convegni, seminari come questo. La bioedilizia non è il risparmio energetico. Ecco, negli ultimi anni si è molto dedicato attenzione al tema del risparmio energetico. Si è entrato in una sorta di illusione collettiva, per cui l'edilizia è quella che è, bella o brutta che sia, non ci importa, basta che ci mettiamo sopra qualche pannello fotovoltaico e le cose funzionano. L'altro modo, e vi cito questo proposito, un esempio concreto, l'altro modo per pensare che, l'altro equivoco su cui qualcuno continua a insistere, è che quello che conta è l'efficienza energetica. E quindi, per esempio, la sede dell'assessorato al territorio urbanistica della provincia di Bolzano, come sapete Bolzano, Bozen, è un luogo di riferimento per i temi di cui parliamo. E Clima House, con tante K e molte H, dentro nel titolo, è una specie di, come dire, santuario, a cui ci si rivolge inginocchiandosi in preghiera, perché di lì si trova il verbo rispetto a quello. Un atteggiamento molto provinciale, noi non abbiamo niente da imparare dalla cultura tedesca, abbiamo invece molto da insegnare, e bisogna che ci rimettiamo a imparare dalle nostre cose, dalle nostre tradizioni. Allora, l'assessorato all'urbanistica della provincia di Bolzano, è all'interno di un edificio ristrutturato, poi ritorneremo su questo tema, che era un edificio delle poste, di epoca fascista, che naturalmente, quando è stato trasformato a sede della provincia di Bolzano, siccome la provincia di Bolzano è artefice di questa grande intuizione, che è il protocollo Casa Clima, il sistema Casa Clima, per la misurazione dell'efficienza energetica degli edifici, naturalmente un intervento della provincia di Bolzano non poteva che essere molto efficiente, e quindi in classe A. Ecco, voglio dire, l'intervento con cui l'edificio è stato trasferito in classe A, da una classe energetica molto scadente, è stato quello di metterci un cappotto di 40 cm di polistirolo. Non è una frottola, è la realtà. Allora, se questa è la via edilizia, io non centro niente, voglio dire, non è questo il mio approccio. Mettere petrolio su un muro per risparmiare petrolio mi sembra una cosa molto poco intelligente e di conseguenza pensare che la via edilizia sia coibentare un edificio con qualsiasi prodotto, non conta quale, e metterci qualche protesi tecnologica, fotovoltaico o quant'altro, per farlo funzionare, ecco, questo non è il mio modo di pensare la via edilizia. E adesso cerco di spiegarmi invece qual è il mio modo per pensare la via edilizia. Io credo che la via edilizia sia principalmente un atteggiamento mentale, cioè bisogna affrontare il proprio lavoro con un'intenzione chiara, non semplice da raggiungere, ma alla portata di mano in larga parte, e ricercare continuamente per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo è quello di fare edilizia o architettura leggera, cioè smaterializzare il peso dell'edilizia. Se noi mettiamo tot metri quadri di fotovoltaico sul tetto, stiamo rendendo possibile la produzione di energia elettrica da fonte solare, ma contemporaneamente stiamo riempiendo il nostro tetto di acciaio, alluminio, vetro, celle fotovoltaiche, silicio, materiali anche scarsamente rintracciabili. E stiamo utilizzando una tecnologia proprietaria, una tecnologia che è poco democratica, cioè una tecnologia che è a disposizione di alcune multinazionali nel pianeta. Lo smaltimento del fotovoltaico è un problema, non è alla portata di mano. Quindi nel momento in cui noi diciamo che con una droga di Stato che si chiama conto energia, dove l'energia elettrica viene pagata quattro volte rispetto allo standard, lo capiscono tutti che stiamo di fronte a una droga, no? Ecco, a fronte di questo messaggio è opportuno riflettere non soltanto sul fatto che io porto a casa dell'energia elettrica a basso costo, ma sul fatto che c'è un intero ciclo di produzione del pannello fotovoltaico e del sistema che gli sta intorno che probabilmente andrebbero meditati. Dopodiché, attenzione, io utilizzo impianti fotovoltaici, però va fatto con cognizione di causa e quindi il conoscere è fondamentale da questo punto di vista. L'ultima premessa è che l'edilizia, e poi lo capirete dalle cose che dirò, l'edilizia è fatta di due grandi settori. Un settore che dovrebbe, secondo me, diventare totalizzante, dovrebbe diventare la maggior parte dell'attività edilizia, che è quello del recupero della riqualificazione. E una parte marginale, che dovrebbe essere marginale, che purtroppo non lo è dell'edilizia, che è la nuova costruzione. Io vi mostro, nel fare vi mostro, è un po' contraddittorio questo fatto, però dietro c'è un pensiero, vi mostro esempi di nuova costruzione. negli interventi che seguiranno, poi so che domani c'è un molto interessante workshop concreto, di esperienze concrete sull'uso dei materiali. Ecco, le esperienze e il workshop contengono indicazioni su materiali e sistemi che si prestano da un lato sia alla nuova costruzione che al recupero edilizia. Diciamo che per la nuova costruzione io ho sposato la causa della costruzione a secco, cioè dei metodi costruttivi dove non entrano quelle cose, che io ritengo un pochino a dirlo a Bergamo, un po' preoccupante, un pochino medievali, che sono le betoniere, quella roba sporca che è cemento, sabbia, ghiaia, acqua, impastata, quella cosa che poi richiede tanto tempo per maturare, che ha una serie di controindicazioni, che deve essere protetta, che insomma ha un sacco di problemi. Ecco, io sono uscito da parecchi anni dall'era del calcestruzzo, perché lo ritengo invasivo dal punto di vista ambientale, per nulla performante dal punto di vista ambientale, e costosissimo dal punto di vista della sua gestione e manutenzione nel tempo. E sono entrato invece nella logica molto in ritardo, perché se poi guardiamo quello che succede in larga parte dei paesi europei, ci accorgiamo naturalmente di essere molto in ritardo, sono entrato nella fase della costruzione a secco basata sui materiali di origine vegetale. Perché materiali di origine vegetale? Perché i materiali di origine vegetale sono gli unici materiali realmente coerenti con il tema della bioedilizia. Perché sono gli unici materiali rinnovabili. Significa che, in parole molto povere, se io faccio una costruzione in legno, sto utilizzando una materia prima che nel frattempo sta crescendo in un bosco. Se io pianto i semi della pianta che ho utilizzato per costruire, questa pianta riproduce un'altra pianta. Nessuno, nonostante siamo nella città degli talcementi, non ha ancora inventato i semi di cemento. Cioè il cemento non cresce, mi spiego. Cioè solo piantate non cresce. Se volete provarci, non esiste nessuna ricerca che conduca alla riproduzione di questa materia prima. In quanto bergamasco io ho visto sparire le colline. A Sottomonte, a Calusco, in queste zone. Mio zio faceva il veterinario Sottomonte. E io, da quando avevo dieci anni, stavo in una casa sotto il monte, dove andavo d'estate, perché mio zio aveva la fortuna di stare in un bel posto in collina. E ogni anno vedevo abbassarsi le colline che dividevano, perché c'erano le colline, che dividevano sotto il monte da Calusco. Ecco, io credo che questo sia un percorso che debba essere interrotto, assolutamente. Oppure che debba essere ridotto ai minimi termini, che non debba continuare ad essere così pervasivo. Quindi, per la nuova costruzione, sistemi a secco vegetali, per il recupero edilizio, naturalmente, sistemi principalmente minerali. Perché l'edilizia costruita è di terra, la nostra edilizia è di terra e di pietra, e va manutenuta con la terra e con la pietra. Oltre che con il legno, naturalmente, perché sappiamo benissimo che l'edilizia tradizionale, quella dei nostri centri storici, è fatta almeno al 50% di legno. Orizzontamenti, pavimenti, serramenti, porte, scale, eccetera. Ok, fine delle premesse. Io ho chiesto di farmi dei tagli drastici. Sono certo che non riuscirò a mostrare tutto quello che ho qua, però poi io lascio la mia presentazione e probabilmente chi avrà voglia la potrà poi guardare, scaricare, come si usa ormai con i sistemi digitali. Allora, fare. In natura, la natura fa. Gli animali costruiscono come noi, cioè costruire è insito nella nostra esperienza. Gli umani sono animali che costruiscono, come le api, come gli uccelli. Ecco, qual è la differenza? Vi ho mostrato due esempi, no? Il nido dell'uccello, questo qua, io me lo sono fotografato io, perché ce l'ho messo su un mobile in casa mia, no? Ho degli alberi in giardino e dopo la cova, no? Spesso i nidi cadono a terra. Se io l'avessi lasciato nel prato, questo nido, si sarebbe annullato all'interno del ciclo naturale. Quindi, in natura si costruisce, ma si costruisce in un modo molto intelligente, si costruisce in un modo che poi rientra nel ciclo della natura. Noi a questo risultato non ci siamo ancora arrivati, ma è l'obiettivo, è il mio obiettivo, è il nostro obiettivo, di quelli che la pensano come me. E quindi questi, così come l'alveare, no? E così come tanti altri esempi di vita animale. Allora, questo è il modello. Diciamo che questa è la sintesi della biodilizia. Una costruzione che sappia integrarsi con la natura, ma sappia anche essere, avere un ciclo di vita che possa essere riassorbito dalla natura in maniera totale e organica. E questo è un cantiere. È un cantiere di una particolare edilizia che io cerco di praticare il più possibile. Queste sono travi in cantiere e queste sono immagini di un cantiere neanche tanto avanzato dal punto di vista tecnologico. Io giro parecchio l'Europa e devo dire che noi siamo, come sempre, abbiamo sempre i nostri vent'anni di ritardo. Mi spiego? Questo è un sistema costruttivo a secco. Come vedete, questi operai lavorano su una platea in CL, perché naturalmente siamo in un paese dove la sismicità ci impone fondazioni di un certo tipo e quindi non possiamo ancora liberarci da questa dipendenza, ma possiamo molto ridurre la dipendenza dal calcestruzzo. Quindi non è una guerra al calcestruzzo. Il calcestruzzo è un ottimo materiale con ottime prestazioni, ma non può essere l'unico materiale che pervade l'industria edilizia. Qui vedete gradualmente crescere, ecco, qua vediamo pareti con il materiale color legno e in effetti è fibra di legno, è quindi un coibente. Dopo aver fatto una struttura a secco, montata, senza, insomma, diciamo che l'impresa edile ha lasciato il cantiere dopo l'estradosso del primo solaio, cioè del vespaio areato che sta sotto il primo solaio. Da lì iniziano a lavorare carpentieri. Per fortuna anche in Italia abbiamo una buona tradizione di carpenteria che poi si è persa, ma si è rapidamente, velocemente riprodotta e ricostruita con grande maestria. Il materiale isolante è strategico per l'efficienza energetica dell'efficio e naturalmente non è polistirolo. Ma perché devo usare il polistirolo? Che è fatto con una materia prima che viene dall'Iraq, Kuwait, Afghanistan, eccetera, eccetera, attraverso trasporti onerosissimi e ambientalmente devastanti, se non poi attraverso purtroppo percorsi di natura geopolitica che fanno in modo che per dominare il petrolio si facciano le guerre, come sapete. Allora, domanda, ma perché dobbiamo usare un materiale assolutamente inadatto, che non ha niente di bio, bio vita, no? Cosa ha a che fare con la vita questo materiale? È un materiale che viene da lontano, è un materiale che ha fatto danni, le petroliere attraversano consumando gasolio, per tirare fuori il petrolio dal sottosuolo. Ci vogliono dei puzzi che funzionano con motori a gasolio. Le petroliere vanno a gasolio, le autobotti che portano il petrolio in giro vanno a gasolio, le petroliere lavano le stive in mare, poi noi ci lamentiamo se ci sporchiamo di catrame i nostri piedi al mare. Ecco, tutto un ciclo inaccettabile che va rotto assolutamente. Allora, la coibentazione di un edificio si può fare con decine di materiali diversi. Renzo Piano ha usato i jeans riciclati per coibentare l'ultimo lavoro che ha fatto in California, che è un museo o qualcos'altro. Tutti i vestiti che abbiamo addosso noi andranno prima o poi al macero. Invece di mandarli al macero, lì riutilizziamo e ci facciamo delle fibre isolanti per l'edilizia. Il sughero, tutti i tappi di sughero, ma neanche il sughero vergine, tutti i tappi di sughero che si bustano nel cestino, se fossero riciclati, sarebbero un materiale isolante per l'edilizia. Voi avete addosso camicie di cotone, il cotone, il lino, la canna, la juta, tutti i materiali vegetali. Se venissero, che servono per fare le tovaglie, le camicie, eccetera, eccetera. Ma hanno scarti di produzione. Si buttano via un sacco di scarti di produzione. Prendiamo gli scarti di produzione dell'industria tessile e facciamo materiali isolanti per l'edilizia. Guardate, questa qua è segatura pressata. La fibra di legno non è la parte nobile che serve per fare una trave. È lo scarto di produzione dell'industria del legno. Ma pensate che invenzione. È come il maiale delle nostre cascine. Non si butta via niente in natura. Il maiale delle nostre è delle ex cascine. Io poi tra l'altro vengo dall'area della bassa, quella dell'albero degli zoccoli, che tutti voi avrete dimenticato, ma che è un punto, un elemento sostanziale della nostra memoria, del nostro territorio. Bisognerebbe che lo facessero vedere a scuola gli elementari, no? Questo film del nostro concittadino, Ermano, con cittadino, conterraneo Ermano Olli. Allora, il materiale isolante, fibra di legno, viene tamponato con un pannello che si chiama fibrogesso, di nuovo fibra, gesso, materiale minerale, fibra, fibra di cellulosa, di nuovo materiale vegetale. È un ciclo che è molto coerente. Poi avete visto in piantistica elettrica, che invece di... Tutti voi sapete come funziona un cantiere, no? Faccio un muro in laterizio, poi lo prendo a martellate per farci le tracce. E' un'operazione ridicola. Fare un muro e poi romperlo per metterci dentro un impianto elettrico. No, io faccio un muro, costruito a secco, senza rompere niente, metto un pannello, faccio passare l'impiantistica e poi metto un altro pannello. Tutto pulito, svitabile, smontabile, disassemblabile. Posso intervenire successivamente senza difficoltà, non devo demolire niente quando voglio rifare un impianto elettrico. E qui vediamo... Ecco, questi sono... E' una scuola, intanto è una scuola elementare in provincia di Treviso, dove io ho vinto una piccola gara di progettazione e qui vedete i sistemi costruttivi, i pavimenti, questi materi... questo è OSB, è un materiale molto basato sulla logica del riciclo, perché faccio un pannello a partire da scarti di produzione dell'industria del legno di nuovo. Vedete il dislivello, io in questo dislivello metterò degli impianti, è il corridoio di distribuzione delle aule, metterò degli impianti e sopra questi impianti metto un pavimento sopraelevato, tutto asciutto, nessuna gettata, nessun calcio, non ci sono le betoniere, non c'è l'acqua in questo cantiere, i tempi di realizzazione sono ridotti in maniera drastica e naturalmente questo porta un sacco di vantaggi. Le travi vengono da un processo di prefabbricazione in cui si usano le macchine a controllo numerico, quindi sono precise al millimetro, non hanno le tolleranze dell'edilizia convenzionale. Adesso io vado veloce perché naturalmente non posso permettermi di analizzare tutto nel dettaglio. L'edificio poi, come vedete, viene impacchettato con questo materiale che è un piccolo compromesso fino a quando non avremo trovato soluzioni migliori. Questo è un film, un freno vento, che è un materiale impermeabile, è una specie di Gore-Tex tanto per capirci, cioè un materiale che lascia passare l'umidità ma ferma l'acqua. Di conseguenza, costruzione in legno impacchettata fuori dall'acqua, protetta dagli agenti atmosferici, questa costruzione richiede 15 giorni di lavoro per essere tirata in piedi, sono 10 aule di scuola materna che si potrebbe anche tirare in piedi in una settimana volendo, avendo la mano d'opera e le attrezzature adeguate. Diciamo che questo lavoro ha richiesto una quindicina di giorni e in 15 giorni l'edificio è fuori dall'acqua, cioè è protetto dagli agenti atmosferici. E questo è l'edificio finito, piaccia o non piaccia, io poi ho le mie, come dire, ho molta attenzione anche per il fatto che l'architettura è un linguaggio contemporaneo, si deve dire, deve essere coerente con la realtà dei giorni nostri. Quindi faccio delle cose che magari piacciono a me, spero che piacciono a qualcun altro, non piaceranno a tutti, ma questo edificio ha, qui dove c'è la manina, un vano scala rivestito in tavole di legno, termo wood. Il termo wood è un trattamento termico del legno che rende il legno adatto all'uso all'esterno. Questo è abete, quindi un legno povero sostanzialmente, che grazie al trattamento termico riesce a resistere gli agenti atmosferici per parecchie e parecchie decine d'anni, senza problemi di manutenzione, se accettiamo il fatto che il legno cambia colore, prende quell'effetto molto color argento dell'ingrigimento della pellicola superficiale che lo rende secondo me molto affascinante. Secondo altri probabilmente no, però questo è legno senza trattamenti chimici, senza avvitato, senza colle, senza niente. Il rosso è invece fibro cemento, di nuovo fibro, sempre fibra di cellulosa, legata al cemento, quindi non voglio fare il talebano contro il cemento, dove serve lo si usa, è un materiale di rivestimento che mi consente di fare una parete ventilata che è, secondo me, strategica nei nostri climi. Una grande coibentazione nell'involucro è una parete ventilata, cioè aria che circola per effetto venturi, cioè per effetto camino, e che mi protegge l'edificio dal carico termico estivo principalmente. Cioè il carico termico, se lo prende la lastra che sta all'esterno, dietro alla lastra c'è la ventilazione, la ventilazione porta via l'eccesso di carico termico e la coibentazione fa il resto del suo mestiere. In questo modo si ottengono delle performance dall'edificio eccellenti. Qual è il mio obiettivo? Arrivare, come vedete, poi sopra qua c'è la dotazione di fotovoltaico, stupido, perché l'amministrazione comunale non perde la sua bella dose di droga, ma perché deve buttare via i soldi che le danno a gratis. E quindi usa il fotovoltaico naturalmente e è piazzato lì sopra. In copertura c'è verde pensile, altra soluzione insieme alla parete ventilata, altra soluzione strategica nella mia idea di biodilizia. Mettere il prato sul tetto, che poi non è prato, non è terra, ma è qualcosa che ci assomiglia, ma in 8-10 cm di strato di verde pensile estensivo noi diamo all'edificio delle prestazioni eccellenti da tutti i punti di vista. Il verde pensile trattiene l'acqua, trattiene la polvere, coibenta ulteriormente lo strato di copertura, protegge le impermeabilizzazioni, ha un sacco di vantaggi e in più noi ci piazziamo un po' di verde in copertura. Questo è il fronte nord dell'edificio e questo è sempre il fronte nord e questo invece è il fronte sud. Il muro rosso è una sorta di abbraccio da nord che protegge l'edificio dalle temperature fredde, il fronte sud sono invece le aule con questo porticato. Guardate che c'è molta più somiglianza tra un edificio di questo tipo e una cascina della nostra pianura, del nostro territorio, rispetto a quanto noi immaginiamo di fare nel momento in cui facciamo quelle architetture copiate dalla storia che non hanno molto a che fare con il 2010. Fare una finta cascina senza tenere conto dei principi fondativi della cascina. Voi prendete Google Art e andate a vedere come sono messe le cascine nella nostra pianura e nel nostro territorio e scoprirete che le cascine sono rigorosamente orientate. Non esiste. Il contadino che non aveva studiato, aveva però la pratica continua di stare al sole tutti i giorni per lavorare e quindi aveva imparato quelle che io chiamo geometrie solari, cioè il fatto che il sole alla mattina, in inverno, come adesso, nasce a... adesso spero che quello mio lì sia al sud, ecco bravo, mi danno aiuto perché ho perso l'orientamento, nasce a sud-est, facciamo finta che sia quello là il sud così mi torna più facile, nasce a sud-est, sta basso all'orizzonte, a mezzogiorno me lo trovo di fonte basso, e tramonta a sud-ovest. Quindi la cascina bergamasca perché è così efficiente? Perché l'albero degli zoccoli è un manuale di architettura? Ma perché il portico, la loggia che stanno davanti servono a far entrare la luce del sole in maniera libera in inverno, e invece quando arriviamo all'estate che il sole nasce a nord-est, ce lo troviamo alto all'orizzonte a mezzogiorno, quasi verticale, e tramonta a nord-ovest, beh, il portico mi ombreggia tutta la facciata, mi tiene fuori il caldo. Poi guardate come è fatta una cascina, est-ovest, murature cieche, nord, piccole finestre. Le finestre a nord a cosa servono? Per fare ventilazione. Poi quelli che se la tirano con la bioclimatica vi diranno che si fa cross-ventilation, e voi rimarrete a bocca aperta. Quando andate a Casa Clima a Bolzano, a pregare di imparare i sistemi dell'architettura sostenibile, vi diranno che bisogna fare la cross-ventilation. Ce l'abbiamo tutto scritto, ce l'abbiamo tutto fatto. I materiali, le soluzioni, le tecnologie, sono tutte presenti nei nostri territori, nelle nostre tradizioni. Non c'è niente da inventare. Quindi questa forma, la forma rettangolare, l'apertura a sud, la chiusura a nord, i fronti ciechi est e ovest, il porticato che serve per intercettare la luce e la radiazione solare, sono, questa è la trasposizione della tradizione, con materiale e tecnologie contemporanee. E vabbè, questi sono gli interni, anche sugli interni ci sarebbe da dire qualcosa, perché il pavimento che vedete per terra si chiama linoleum. Linoleum. Olio di lino. L'olio di lino è la materia prima sostanziale che è servita per tenere in piedi tutti i serramenti, le porte, i pavimenti di tutta città alta, città bassa e tutta la pianura e la tradizione storica dalle nostre costruzioni. L'olio di lino è il fiore del lino che con cui si fanno le tovaglie, linifici, cannappifici nazionali. Sapete che l'Adda è un luogo di crespi d'Adda, fara d'Adda, questi luoghi, tutto il corso dell'Adda è pieno di questi luoghi di produzione che si basavano sulla coltivazione della canapa, dell'aiuta, del lino e di questi prodotti vegetali che fanno, sono incredibili. Voi li piantate per terra, crescono, mentre crescono fanno fotosintesi clorofiliana, assorbono CO2, CO2, quella cosa di cui si parla continuamente dicendo che l'alterazione del clima, eccetera, eccetera, è determinata dalla sovrapproduzione di CO2. Beh, se noi facessimo più agricoltura, piantassimo più alberi, facessimo rimboschimento in maniera drastica e significativa, avremmo un perfetto equilibratore della CO2. Il lino cresce, assorbe CO2, restituisce ossigeno all'ambiente, lo tagliamo, ci facciamo le camicie di Armani e con lo scarto di produzione ci facciamo l'olio di lino per trattare i serramenti in legno e per fare il linoleum che è fatto con olio di lino, farina di sughero aiuta. Tre materie prime vegetali, il linoleum è un'invenzione che ha cent'anni, ha riempito le nostre scuole, i nostri ospedali, fino agli anni 50, 60, poi è stato radicalmente sostituito dal PVC. Ditemi voi, se questo è progresso, ma che progresso è mettere il petrolio per terra quando ci possiamo mettere un materiale che viene da una profondissima tradizione e dalla possibilità di usare il nostro territorio per farci i nostri materiali senza andarli a prendere in Africa o in Afghanistan. Ecco, questo è un altro lavoro, ve lo faccio vedere molto veloce, un po' più vicino, perché è in provincia di Milano, provincia di Monza e Brianza, nuova provincia. Questo è quello che c'era prima, io mi preoccupo sempre, perché purtroppo alla fine quello che io dico è che l'unica biodilizia vera è quella non costruita. Purtroppo questa è la dura verità. Quindi costruire un atto di responsabilità è importante. Se costruisco una scuola, io credo di fare una cosa corretta, perché sto costruendo un servizio sociale, sto migliorando la qualità della vita di un bambino, che è magari mio figlio o vostro figlio, e quindi penso di fare una cosa corretta, fuori dalla speculazione, fuori da tutto quello che ruota purtroppo come sapete, adesso si parla molto di mafia al nord, credo che tutti sappiate qual è l'interesse principale di certe attività industriali, tra le prime attività industriali italiane, che hanno una pervasiva presenza in questo settore. Forse bisogna imparare a capire se stiamo facendo architettura necessaria, come quella che costruivano ai tempi dell'albero degli zocchi, costruiscono la cascina, e cavolo perché mi serve per coltivare i campi, devo tenere gli attrezzi agricoli, devo avere il fianile, è un'architettura necessaria. Poi abbiamo smesso di fare, oppure abbiamo ridotto ai minimi termini l'architettura necessaria, e abbiamo cominciato a fare l'architettura superflua, quella che serve per fare la speculazione. è un'industria fine a se stessa, consumismo, che non è giustificato. Dobbiamo ricominciare a fare l'architettura necessaria. La prima architettura necessaria, e lo dice, non lo dico io, lo dice il presidente del Lance, 15 giorni fa, manifestazione a Roma contro la crisi dell'edilizia, è finalmente la gestione, manutenzione, riqualificazione del territorio. Abbiamo un'enormità di lavoro, un'enormità di lavoro da fare per tutto il segmento edilizio, materiali, progettisti, professionisti, imprese, abbiamo un enorme lavoro da fare, ma dobbiamo uscire dalla sottrazione di suolo all'ambiente naturale. Questo io, scuola materna, Ronco Briantino, provincia di Milano, quanto tempo oggi? Scavi, e qua siamo all'estradosso, la faccio breve, perché avrei molto da raccontare, un cantiere è una bella storia da raccontare, su cui fare riflessioni, però forse non in un convegno, meglio in un workshop o in un'altra occasione, entrare nel dettaglio, vedere i singoli passaggi, eccetera, eccetera. Qua, dopo la parte, ecco questa qua, che conoscete tutti, scavi e fondazioni, sementi armati e quant'altro, arriva la carpenteria e poi vedete come si fa in fretta a tirare su una scuola, arrivano pareti già fatte, pronte, già cablate, con dentro gli impianti elettrici e tutto il resto. Lei si movimenta con una gru e una persona che schiaccia il tasto della gru. Queste sono travi di banchina, maschio o femmina, la parete entra per incastro, viene fissata meccanicamente con un po' di viti e nel giro, queste sono pareti, questa qui è una parete da 12 metri per 3 metri di altezza, è già finita, è pronta, deve essere poi, ovviamente, sarà, avrà poi materiale di finitura. 1.400 metri quadrati di scuola, anche questa in 15 giorni a tetto e impacchettata dentro ai sistemi di protezione. Queste sono, vedete, il materiale è già tutto in cantiere, è già tutto accatastrato in cantiere, con la gru si trasferisce, si fa in fretta a tirare in piedi. Queste sono le coperture, travi in legno a lamerlare, fibra di legno, ventilazioni, USB in copertura, la quarta immagine, questi sono torrini che servono a fare prese di luce e di ventilazione, queste sono le stratigrafie che consentono alla copertura la ventilazione, fondamentale, se costruite sulle Dolomiti forse no, ma se costruite in pianura assolutamente sì, perché noi abbiamo dei climi estivi piuttosto pesanti. La ventilazione è strategica dal mio punto di vista. Questo è lo scarto di produzione di un cantiere. Lo prendete, lo mettete nel sacco e lo bruciate nel cammino la sera. Quando l'avete bruciato nel cammino, e questa è una cosa interessantissima, la CO2 è uguale a zero. Cioè, voi bruciate la legna del cantiere e state producendo CO2, dal cammino, dalla canna fumare del vostro cammino esce CO2. Qualcuno vi dirà stai producendo inquinamento. No, perché questo legno che vedete qua la CO2 l'ha già assorbita in partenza. Quando era albero ha assorbito CO2, quando lo bruciamo torniamo a zero. La scuola di legno è un congelatore di CO2, è un aiuto agli equilibri ambientali del pianeta. Se costruiamo una scuola di legno, stiamo congelando CO2, è CO2 ferma, assorbita, quindi la scuola di legno ha un bilancio di CO2 attivo. È in vantaggio. quando è che si riequilibrerà? Se qualcuno la vorrà bruciare, ammesso che ci riesca, perché non brucia una scuola di legno, attenzione. Qualcuno marcirà, quando qualcuno la demolirà, ma con una buona manutenzione questa scuola rimarrà in piedi per centinaia di anni se è possibile. Se non fosse possibile perché perde le sue caratteristiche funzionali, perché passano gli anni e ci sono nuove esigenze, la possiamo smontare pezzo per pezzo, recuperare integralmente i materiali isolanti, eccetera, eccetera. Dopodiché, con le travi in legno lamellare che avete visto prima, deciderete voi cosa farci. Forse ci possiamo fare la copertura di una casa ad unifamiliare, possiamo farci qualsiasi altra cosa, ma se anche voi decideste di buttare tutto in una fornace e di bruciare, avremo sempre CO2 uguale zero. In un cantiere convenzionale come quello che ci ospita, la CO2 è drammaticamente impassivo, cioè abbiamo una produzione di CO2 devastante che non verrà mai riequilibrata con nessuna azione. Non è possibile. Mi spiego. Questo è il verde pensile, così approfitto, copertura, materiali, saccone, terra che viene, che terra, è più torba che terra, che viene posata, i giardiniere che fa i buchini, posa delle talee, non so se si vede, si vedono queste foglioline, che poi ramificano, non dobbiamo andare sul tetto a tagliare l'erba perché sono, assomigliano più ai muschi, ai licheni che non all'erba del nostro prato. Con il tempo questa superficie si espande e svolge un ruolo molto importante. Questa qui è la costruzione, è un corridoio di distribuzione come quello che avete visto prima, vedete come passano gli impianti, tutto a secco, montati in bell'ordine, quando poi dobbiamo intervenire, tiriamo sulle quadrote del pavimento sopraelevato, sotto ci ritroviamo tutto a vista e abbiamo la possibilità di intervenire per aggiornare, modificare, correggere, riparare, senza rompere mai niente. di lato vedete questo è il sughero, sopra stiamo montando poi c'è un foglio di carta, questa qua, carta oleata, niente di preoccupante, carta vegetale, questo è il sughero impacchettato, questi qui è un impianto radiante a pavimento, questi sono bagni con l'impiantistica, la listellatura prima della parete di finitura, questo è pochi metri quadri di solare termico, che rendono praticamente quasi autosufficiente, questa scuola consuma metano pochissimo, mi spiego, verificato dai, c'è una caldaia a condensazione a 30 kilowatt che è quella che vedete qua, 30 kilowatt, no? Un appartamento di 100 metri quadri a Bergamo, 30 kilowatt, questi sono 1400, perché? Perché facciamo un po' di solare termico, il solare termico a differenza del fotovoltaico è una tecnologia democratica, ve lo potete costruire in casa, in cantina se volete, non c'è bisogno della Sharp o della Siemens o della General Electric, vi sto facendo nomi di produttori di fotovoltaico mondiali, no? Poi se vi fate qualche ricerchina, ormai tutti usano internet, andate a vedere General Electric e cosa fa General Electric nel mondo? E forse vi rendete conto che, ma non so se è proprio il caso di dargli tanti soldi a questa General Electric, ok? Ma questa è un'opinione assolutamente personale, quindi non... Il pannello solare termico ve lo potete costruire in casa, una scatola di lamiera, un vetro, una verniciata di nero e dentro una serpentina di rame. È un pannello che avrà un basso rendimento ma ve lo potete fare in casa. Se poi invece volete spendere un pochino di più usate una tecnologia invece disponibile sul mercato e l'acqua del solare termico la mandate in un bollitore dove c'andrà anche l'acqua della caldaietta a 30 kilowatt, no? L'impianto radiante di questa scuola va all'80% con l'acqua prodotta da questi pannellini di solare termico. Perché questo? Guardate, in questa scuola ecco, perché si capisce anche un po' da qui. In questa scuola a gennaio dell'anno scorso abbiamo avuto problemi di surriscaldamento. Cioè, ci avevano le aule con 26 gradi e le maestre si lamentavano. Impianto di riscaldamento spento. Sono gli insegnamenti dei contadini questi. La forma, l'orientamento e la buona esposizione. A differenza del contadino noi cosa abbiamo? Abbiamo una stratigrafia con delle performance incredibili. Perché i muri di questa scuola sono tutta coibentazione. telaio in legno e tutto il resto lo spessore del muro è tutto isolante. Quindi produciamo pochissimo calore all'interno, lo conserviamo in maniera eccellente, non lo facciamo uscire, vetri bassi emissivi naturalmente, orientamento perfetto, forma compatta e così si fa la bioedilizia. Il solare termico è un optional, il solare fotovoltaico è un extra optional e tutto il resto pure. Io sono dell'idea che bisogna fare a meno degli impianti, questo è il mio obiettivo. Il mio obiettivo da architetto è quello di fare un'architettura che possa fare a meno degli impianti. Perché si va in sovrariscaldamento in una scuola materna alle 10 del mattino nella nostra latitudine, 42 gradi, provincia di Monza? perché alle 8 del mattino cominciano a entrare 30 bambini e 30 bambini sono 30 caloriferi, voi siete 300 caloriferi. Quindi i bambini surriscaldano l'ambiente, 30 bambini in un'aula surriscaldano l'ambiente, nel frattempo dalle 8 alle 10 è partito la caldietta di 30 kilowatt oppure l'acqua calda prodotta dal solare il giorno prima, ha mandato in temperatura l'ambiente ma nel momento in cui l'ambiente si surriscalda per la presenza dei bambini e perché alle 11 il sole entra perfettamente non necessariamente il sole come ieri e oggi ma anche la radiazione solare meno intensa se però arriva una giornata come oggi a gennaio a Ronco Briantino in questa scuola l'aula con l'impianto di riscaldamento spento va a 26 gradi bisogna spalancare le finestre. Questo per dirvi qual è la strategia vincente per fare in modo di fare vero risparmio energetico si deve lavorare sulla forma l'orientamento i materiali le tecnologie non impiantistiche ma di coibentazione dell'involucro edilizio e su tutti gli elementi integrati che compongono l'edificio quando avete raggiunto il miglior risultato possibile in questo modo allora aggiungiamo pure gli impianti ma ci mancherebbe miglioreremo ulteriormente il risultato potremmo andare addirittura a raggiungere i risultati di una casa passiva cioè andare sotto i 15 kilowatt metro quadro anno grazie alla dotazione impiantistica che qua è stata utilizzata questo qui è un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore io non so quanti di voi conoscano questa tecnologia se fossimo in Francia la conoscerebbero tutti però che è obbligatoria tanto è vero che quando noi dobbiamo fare questo impianto dobbiamo rivolgersi a multinazionali francesi che grazie a una legge dello stato francese che impone la ventilazione meccanica controllata cosa sto dicendo tutti avete fatto una scuola elementare una scuola media giusto un'ora di classe di scuola media cosa produce quando voi uscite dall'aula e rientrate dopo essere andati al bagno qual è la sensazione che avete rientrando nell'aula quella cosa che molto elegantemente si chiama inquinamento indoor indoor pollution perché 30 bambini fanno metabolismo e fanno ascellano fanno rumoretti cose varie insomma riscaldano l'ambiente non solo lo riscaldano ma lo inquinano significativamente l'auri è esausta in questo modo noi nelle nostre esperienze scolastiche come la possiamo tirar fuori la possiamo tirar fuori spalacando le finestre drammatico a gennaio in una scuola pubblica italiana spalancare le finestre è l'errore più grave che si possa produrre perché mentre quando spalanco la finestra fuori siamo a 0 gradi dentro siamo a 24 perché c'è stato sul riscaldamento e intanto sto miscelando le due arie il termostato sente che la temperatura da 24 crolla a 18 a 17 e comincia a pompare metano non gliene frega niente che stiamo soltanto cambiando l'aria no il termostato fa partire la caldaia la caldaia brucia e noi stiamo producendo un enorme consumo energetico e in più rischiamo di far beccare il torcicollo al bambino e l'influenza al bambino perché si prende la ventata d'aria fredda magari sudato dopo la ricreazione ventilazione meccanica controllata tecnologia semplicissima che significa che prelevo continuamente aria esausta dall'ambiente continuamente la porto fuori e la butto all'esterno dall'esterno prelevo aria pulita compatibilmente con quello che offre l'ambiente circostante comunque più pulita di quella interna e la metto dentro ma anche un passaggio che qui invece è fondamentale con ventilazione meccanica controllata con recupero di calore è un'invenzione banale proprio una tecnologia semplicissima si chiama scambio di calore se voi mettete un bicchiere d'acqua fredda in una brocca d'acqua bollente dopo qualche minuto i due fluidi ce l'hanno insegnato a scuola e anche le lezioni di scienze che poi noi dimentichiamo drammaticamente i due fluidi raggiungono la stessa temperatura dopo un po' li troviamo con la stessa temperatura uno cede calore all'altro allora se io prendo due arie una calda sporca e una fredda pulita e le faccio incrociare in uno scambiatore di calore dove non si miscelano ma cedono calore una all'altra io sto preriscaldando l'aria fredda che tiro dentro da fuori con il calore dell'aria che butto via ma pensate questa è bioedilizia sto facendo un risparmio energetico con niente mi spiego cioè con uno scambio fisico di calore tra due arie vuol dire smaterializzare vuol dire ridurre i pesi vuol dire queste sono le tecnologie interessanti allora questa scuola ha un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore io sto facendo un enorme risparmio energetico e sto dando aria pulita ai nostri figli l'aria è ripulita ogni minuto se voglio ogni dieci minuti temporizzerò il sistema posso anche governarlo in modo domotico nel senso che se metto un sensore degli inquinanti classici che segnalano la presenza di inquinamento indoor potrò far partire l'impianto di ventilazione meccanica quando gli inquinanti raggiungono una certa soglia e quindi non sempre temporizzando ogni dieci minuti ma solo quando serve domotica altro elemento fondamentale di un buon intervento di biodilizia perché perché funziona con un softwareino stupidissimo che mettiamo in un pc riciclato per far andare un sistema domotico basta un pc degli anni di dieci anni fa che nessuno vuole più lo mettiamo nella bidelleria e ci mettiamo su un softwareino di quelli banali che potrebbe far partire anche un bambino e governiamo 4-5 cose fondamentali il sensore dell'aria dell'inquinamento dell'aria indoor l'alzamento e l'abbassamento delle tende per fare intercettazione della radiazione solare perché io come ho fatto a risolvere il problema intanto la vedete questa scuola questa è la scuola finita con le aule il porticato su questo porticato l'anno scorso non c'erano le tende perché l'amministrazione comunale non aveva più aveva finito le risorse non aveva 20.000 euro per fare le tende abbiamo aggiunto su questo porticato delle tende scorrevoli controllate dalla domotica per cui quando la radiazione solare è troppo forte il sensore che misura la temperatura dell'aria interna dentro all'aula fa scendere le tende le tende intercettano la radiazione solare e mettono in ombra l'aula le tende arrivano fino a un'altezza di 2 metri perché la radiazione solare geometricamente viene calcolata i bambini continuano a vedere il giardino all'esterno non c'è interruzione della percezione dell'esterno ma c'è intercettazione della radiazione solare anche questo è banale una tenda che fa qualsiasi tendista fuori che è presente in qualsiasi piccolo comune italiano tecnologia banale facile da manutenere basso costo che però ottiene dei risultati eccellenti dal punto di vista delle prestazioni energetiche dell'edificio qui vedete un po' di fasi di costruzione qua c'è l'edificio impacchettato ancora con il freno vento con l'istellatura verticale per fare la parete ventilata qua è già fatto il rivestimento in doghe di termo wood e qua sono immagini della scuola finita non indugio sulle osservazioni di ordine architettonico perché in questo contesto non mi interessano qua vedete molto bene il rapporto aula le torri di illuminazione e ventilazione sotto hanno i bagni i bagni hanno luce e aria naturale attraverso pur essendo ciechi hanno delle torri di ventilazione che stanno sopra e dietro c'è il corridoio e questo è il porticato che riprende in maniera stretta gli insegnamenti dell'architettura tradizionale forma orientamento questo sporto non è casuale è calcolato geometricamente per mettere in ombra la facciata a giugno e per far entrare tutta la luce possibile a gennaio mi spiego è fisso non è un sistema complicato costoso sono edifici a basso costo non sono edifici costosissimi e qua c'è il secondo capitolo ma io penso che lo faremo chiudiamo quindi ho fatto il primo capitolo mi dispiace cosa volete che vi dica però credo che attraverso il primo capitolo vi ho risposto al al tema che mi è stato assegnato introduzione alla biodilizia io credo che questa sia l'introduzione alla biodilizia naturalmente in quello che segue ci sono c'è qualche considerazione in più per dare concretezza a alcune cose un po' preoccupanti che ho detto cioè che la migliore biodilizia è smettere di costruire che per un architetto voglio dire e quindi detto a una platea come la vostra è una provocazione molto forte ma io vi ho anche dato la risposta secondo me bisogna guardate se mi date un minuto vi faccio soltanto vedere io cito dati ance queste cose poi le ritrovate le passerò per cui le ritroverete faccio soltanto vedere ecco queste dieci cose poi finisco veramente il mio obiettivo è arrivare a costruire senza costruire che è il modello del nido dell'uccello cioè fare una costruzione che a livello di peso ambientale possa essere più leggera possibile che non significa fare una costruzione evanescente impalpabile le scuole che avete visto vengono completamente rivestite la struttura in legno viene completamente rivestita in fibrogesso due lastre di fibrogesso consentono una resistenza al fuoco che nessun edificio con struttura in cemento armato può raggiungere assolutamente quindi hanno delle performance anche dal senza ricorrere a materiali pericolosi come le vernici intumescenti o tutto quello che ha a che fare con l'antincendio fibro gesso gesso e fibra di legno due lastre due centimetri e mezzo accoppiate hanno delle performance di antincendio eccellenti molto superiori a quelle di una struttura in cemento armato non protetta una struttura in cemento armato a certe temperature collassa perché il ferro fonde invece le lastre di fibrogesso proteggono ma tenete conto che se io dovessi fare come nel caso di questa scuola la struttura della scuola è rei 60 di suo la struttura in legno puro legno senza vernici intumescenti è rei 60 di suo perché provate voi a bruciare un pilastro 20 per 20 e vedete dopo che avete provato mi dite qual è il risultato un pilastro 20 per 20 sottoposto all'azione del fuoco carbonizza nella sua superficie perimetrale ma la parte portante non viene intaccata per molti molti minuti rei 60 significa che la struttura in legno sta in piedi 60 minuti sottoposta al fuoco una struttura in cemento armato senza protezione assolutamente no allora questi sono i punti che sono poi una sorta di decalogo che io sto cercando di darmi circolarità invece che linearità significa che in natura l'esempio del nido dell'albero è circolare dell'uccello perdono l'uccello prende per fare il nido materiale che trova in giro foglie pezzi di ramo un po' di tutto anche la plastica purtroppo costruisce il nido e poi il nido ritorna alla natura quindi il percorso è circolare quando noi costruiamo una casa preleviamo dalla natura che cosa materiali energia acqua eccetera eccetera l'oggetto costruito non è riassorbibile dalla natura il polistirolo rimane lì per migliaia di anni non può essere se lo dobbiamo bruciare facciamo diossina se bruciamo il polistirolo facciamo diossina quindi il nostro modo di costruire è lineare non rientra nel cerchio della natura e noi dobbiamo concettualmente via di inizio è un modo di pensare dobbiamo introdurre la circolarità nel nostro modo di pensare curare le cause e non i sintomi significa che se io ho il mal di testa prendo la pastiglia contro il mal di testa nella maggior parte dei casi il mio mal di testa è determinato da problemi al fegato scarsa digestione o quant'altro io sto curando il sintomo del mal di testa ma non sto curando l'origine la causa se curo la causa probabilmente non mi tornerà il mal di testa se curo il sintomo mi tornerà il mal di testa allora la domanda è noi non è che stiamo curando i sintomi in edilizia cioè mettendo polistirolo nei muri non è che stiamo curando i sintomi quando invece dovremmo curare le cause progettare i comportamenti questo è strategico e qui avrei bisogno di farvi vedere delle cose però vi dico subito che quando noi abbiamo fatto la migliore via di edilizia se non siamo capaci di fare in modo che l'edificio venga utilizzato in un certo modo non abbiamo risolto nulla io vivo di fronte una scuola materna pessima ce l'ho di fronte tutti i giorni se le inservienti ogni giorno spalancano le finestre dopo la mensa per fare operazioni igieniche perché puliscono per terra e siccome sudano spalanca le finestre io posso avere anche costruito la migliore scuola del mondo con tutte le attenzioni al risparmio energetico i materiali vegetali e quant'altro ma se non do un manuale se non istruisco le persone che abitano quella casa a usarla in modo corretto avrò vanificato tutti i miei sforzi quindi progettare i comportamenti significa fare progetti che siano in grado di insegnare alle persone come usare correttamente gli edifici più chiese meno a casa è un po' una provocazione non so questa la capiscono soltanto quelli che hanno un po' di anni perché parecchi anni fa lo slogan della sinistra in Italia era più case meno chiese perché si diceva chissà perché poi in territori democristiani come quelli bergamaschi questa era una forte provocazione si diceva che i democristiani dei tempi costruivano soltanto chiese e non si preoccupavano delle case per gli operai cavoli non c'è slogan che abbia avuto un esito così efficace abbiamo costruito dal 93 al 98 un milione e 800 mila nuove abitazioni lo dice il Cresme non so quanti di voi sappiano cos'è il Cresme centro di ricerca è il principale ente statistico riconosciuto da tutta l'edilizia dall'ANCE da tutte le associazioni principali di edilizia state facendo i conti un milione e 800 mila nuove abitazioni in 5 anni quanti abitanti equivalenti ci mettiamo dentro 3 per abitazione quanto fa oltre 5 milioni di abitanti ma dove ma se abbiamo un tasso di crescita demografica uguale a 0 ma per chi le costruiamo queste case sapete che a Roma ci sono 250 mila abitazioni vuote eppure Veltroni si è fatto un piano regolatore che prevede 300 mila abitanti equivalenti per i prossimi 10 anni ma non è forse il caso di mettere a posto le 250 mila abitazioni vuote che significa edilizia lavoro per le imprese per i progettisti e quant'altro quindi forse è venuto il momento di fare più chiese e meno case la mia scuola è una chiesa perché in Grecia classica non quella disastrata di adesso nella Grecia classica l'ecclesia da cui poi la chiesa cattolica ha preso il nome l'ecclesia era il luogo di incontro della comunità una scuola un ospedale una biblioteca una palestra non sono chiese non sono luoghi di incontro della comunità allora io dico che invece sì qui dobbiamo costruire un sacco di nuova edilizia dobbiamo costruire più chiese per la comunità più luoghi per la comunità per la qualità della vita della comunità Microcosmi eccellenti troppo complicato non ho tempo un'altra volta riciclare e recuperare credo che l'abbiate capito tutti in sostanza materiali vegetali penso altrettanto fare meno degli impianti pure quindi io sto cercando di e poi segue la spiegazione di ogni punto ma mi auguro che ci saranno altre occasioni per poter approfondire questi temi vi ringrazio per l'attenzione come si suol dire di solito grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.